Guarda chi può, guarda chi arriva, aveva minimo uno Muerto? Quanti sono? Terra uno Uno è craccato Il terra uno raga Audi, 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 Audi Sono tipo 4 sopra Leo, devo entrare in casa Leo Ok Leo Bravo Non si go! Mia racchietta la cava Certo, non c'è Nella gem no? Vedo che io ho suplico No ok, ma un'acchietta la scena L'auto è arrivata Tocchi che mi può aiuta? Chi è? Chi te buti? Superstar? Qui? Di più? Di più? Mi sono? Ma cosa? Cosa? Cosa mi ha detto? Sì, questo è alto Grazie Mi chiede? Uuuuhuuuhu! Mio 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 Oh fuck Ah ma mec Il y a une team sur moi Bon bah chis mort Grit T'as mes mes en comment Oh mon dieu oh mon dieu oh yeah i see him oh you're screwed oh my god someone flip that oh my god